Oh ma mi stai dicendo che Masa ha vinto il torneo zio Merito tuo se l'ha vinto Eh minchia però non sei fatto 15k così Ma cozza Adesso non so se era solo il primo pre Non è andata di lusso il fatto che le abbiamo detto di no per noi E siamo parcivato noi con lui La probabilità di vincere quel premio Follia eh 1.6k a testa No comunque giuro mi piega Masa che ha vinto Minchia letteralmente Facevano da mulo prima L'abbiamo visto prima ragazzi Questo torneo di Fortnite Masa letteralmente Lo stavano usando i due teammate bengoni Per trasportare i medichi E tipo gli scudini Era come un muro per trasportare Le cure Vabbè però intanto però quel cappone Eh no ma infatti GG Lo voglio sentire a rinfacciarciola sta roba Campione di Fortnite Il sitore della Stepnikup Masarone Non hai capito zio Ero smutato su Discord Ho sentito Masa Entrare e urlare Il campione di Fortnite Italia è qui Non ci credo Giuro giuro adesso Ma è qui il campione di Fortnite italiano Mi hanno detto che hai vinto Quanto hai vinto Masa? Quanto hai vinto Masa? Quanto hai vinto? 5k diviso 3 5k in 3 abbiamo fatto Ma siete arrivati i primi? Primi 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 Quante bombolone ti sei sparato a game Masa? Non potevo perché Ho scoperto dopo il primo game Che eravamo in home page dell'evento E quindi non potevo Bombe kill zio Non potevo perché ho scoperto Che eravamo in home Ma te mi hai fatto un'incisione eh? Mai Mai Zio non sono rubati Questi soldi Però non potevano letteralmente Giocare in via a quel punto Non sono rubati questi soldi Zio ma veramente hai fatto 0 Su se hai fatto 0 kill In tutto il torneo Masa? Eh? No dai Almeno una l'avrei fatta Sì Zero? Zio però No Zero Zero Come è possibile? Hai cinque partite? Sei Sei partite? Assolutamente Follinare Oggi non ti hanno regalato Rate o zero Rate o zero raga Mi hanno regalato 1500 euro oggi Masa Ma zio ma Se non sei un mentecato Li dai ai ragazzi Che ti hanno carriato Quei soldi Eh infatti No no Io ti volevo proporre Oli giving sub Nella mia chat Oppure Ah ecco Oppure fidati Stavo già organizzando Una cena con i ragazzi Stavo già organizzando Una cena con i ragazzi Arriva Cervo E arriva e gli fa Oh comunque Guarda che se vinci Una cena offerta a me Stefano deve uscire Subito Ehm Io non la offre i ragazzi Che ti hanno fatto vincere Oh Dania Mi gioco Di one the one Grazie.